Ad oggi in Abruzzo, all'interno delle carceri, sono risultati positivi al Covid-19 quattro detenuti e sette lavoratori. Un dato in assoluto basso sulla totalità della popolazione carceraria regionale, ma, data la preoccupante situazione epidemiologica del Paese, un rafforzamento delle misure preventive è necessario per evitare che la situazione vada fuori controllo. A lanciare l'allarme è Giuseppe Merola, coordinatore regionale Funzione Pubblica CGL Abruzzo e Molise. Il continuo dilagare della variante Omicron all'interno del nostro Paese negli ultimi giorni sta iniziando seriamente anche a preoccupare per la tenuta delle carceri. Come Funzione Pubblica CGL Abruzzo e Molise abbiamo chiesto al Governo, all'amministrazione penitenziaria e alle Regioni per le loro competenze di adottare delle misure preventive rafforzate a tutela della popolazione detenuta, delle lavoratrici e dei lavoratori, affinché siano arginate situazioni nefaste per tutta la collettività, sia penitenziaria che pubblica, come purtroppo già successo nelle scorse ondate. La campagna vaccinale è stata interessante e significativa, anche se una buona parte della popolazione detenuta non ha ancora effettuato la terza dose. Questo non basta per noi come organizzazione sindacale, bisogna aprire un tavolo di confronto con le parti sociali e con le Regioni, affinché vi siano delle misure di protezione più utili e delle misure di protezione più forti. Dobbiamo tutelare tutti. Il carcere purtroppo è un luogo e un ambiente di lavoro anche molto vulnerabile e suscettibile. Pertanto ribadiamo e rammentiamo il nostro allarme, affinché vi siano delle misure idonee e delle misure anche durature nel tempo. Pertanto ribadiamo e rammentiamo il nostro allarme.